Cari amici di autorbo.it, e finalmente abbiamo gli Aerial Bot al completo, più uno, Quick Slinger, Firefly, Air Raid finalmente, Silver Bot, Alpha Bravo, Sky Dive e Power Glide, con i due nuovi aggiunti. Finalmente quindi abbiamo Air Raid, qualcosa che somiglia a un F-14 misto F-15 e forse a qualcos'altro, ed è un remold abbastanza pesante di Sky Dive, e parlando di remold abbastanza pesanti, le armi sono le stesse. Due fucili sono identici, anche se uno è bianco, e due padelloni pure, anche se quello di Air Raid ha aggiunto qui che è bianco invece che nero, quindi ancora si distinguono tra loro. Per il resto sono completamente identici. Passando ai modelli invece, la somiglianza in modalità veicolare è davvero nulla. Hanno rimoldato praticamente tutto, tranne forse questo pezzettino qua. No, hanno rimoldato anche quello. Quindi la modalità veicolare è un mold completamente nuovo. L'unica cosa che è rimasta sono effettivamente le gambe, la parte frontale, e le braccia sotto le spalle. Questo pezzettino qua. Qui è nero e qui è bianco, ma sono uguali. Quindi abbiamo due pezzi identici. Tra la se contiamo il connettore. Il resto è tutto nuovo. Come dicevo, è una specie di F14 misto F15, quindi ha le ali a geometria variabile, che possono essere aperte all'inverosimile per la trasformazione, ma direi che più di così è meglio non aprirle. Ha un paio di missiletti scolpiti qua. E come dicevo, il resto è più o meno tutto originale. Su serio, uno, due, tre pezzi sono uguali. A skydive. Sì, skydive. Bene. Quindi direi che possiamo mettere via gli altri per il momento. E possiamo occuparci dell'ultimo arrivato. Ovviamente, oltre a questi accessori, essendo un Wave 2 americano, visto che la versione europea non esiste, Asbro del cavolo, si lamenta che la distribuzione non è efficiente. Qua da me Wave 1 ce li ho che mi escono dalle orecchie. In altre zone d'Italia non esiste neanche mezzo. Non sono buone di distribuire, poi si lamentano che non vendono. Vabbè. Comunque, essendo versione internazionale, anzi USA, ha il suo fumetto. Chiamato Combiner Wars 7. Ed è una parte del Dark Cybertron, se non sbaglio. E almeno, ho visto il seguito di questo nei fumetti di Dark Cybertron. Ecco, fa specie... Nel fumetto di Skydive, su Piran venga fatto a pezzi da Devastator. Spoiler! Bene. Passiamo alla trasformazione. Vabbè, ci proprio vogliamo soliti confronti, anche se abbiamo visto tutto il gruppo assieme. E passiamo alla trasformazione. Abbastanza semplice. Portiamo indietro questi, le ali. Sganciamo le braccia da questi perni qua. E li portiamo in alto. Simboletto Autobot qua sulla spalla. L'ho notato adesso. Apriamo le gambe. Come per tutti gli altri Combiner Wars. E... AirBot, volevo dire. E... Sul solito doppio giunto. Le stendiamo. E sono davvero dure queste articolazioni. In questo modello. E li chiudiamo. E qui abbiamo... Questi due fori. Questi... Tab qui. Anche questi piccoli dentelli. Sì, riesco... Eccolo qua. E li richiudiamo. Prendiamo gli elettoni. E li portiamo indietro. Possiamo aprire le gambe. E esattamente come Skydive. L'unica parte che è identica di trasformazione, va beh, c'è tra le gambe. Portiamo questo indietro e lo pieghiamo qua. E qui abbiamo... Due pernetti. Oddio. Dire il vero è uguale a tutti gli AirBot Deluxe. Quindi... Facciamo finta che non abbia detto niente. E ruotiamo la testa. Diamo una bella occhiata alla scultura della testa. Ottima. Questa calotta qui sembra... Light piping, ma invece è plastica colorata. Ora, secondo le istruzioni, queste qua... Dovrebbero andare in questo modo. Le ali. Ma dato che così sono le ali... Secondo le istruzioni robot, così... Sono per l'arto. A farlo a zaino. Sinceramente... Prefisco a lasciarle aperte. A farle un po' da K. E non vorrei sbagliarmi, ma farli anche da modello G1. Se non sbaglio, almeno nella serie animata... Le ali erano in questa posizione. Ovviamente puoi impugnare... Entrambe le armi. Normalmente... Attraverso i pugni. Però... Anche... Delle porte qua. E... L'avevamo visto prima... Due porte qua sulle ali. Nonché... Questa qui... Sul dorso... Come skydive. Bene. Un attimino di pausa... E facciamo la squadra al completo. E rieccoci qui. Con la squadra al completo... E in modalità robotica. Quindi abbiamo... Anche un po' di... Paragoni di dimensioni. Meno male... E' grande quanto skydive. Visto che... Siamo qui... Passiamo anche alle articolazioni. Allora... La testa... E' su ball joint. Ruota 360. Guarda un po' in alto. Guarda abbastanza in basso. Spalla. Fa i 360 gradi su un ball joint. 90 gradi in fuori. E basta. Non può andare più in alto. Ruota 360 gradi su un prano a fungo. Sotto la spalla. Misero ratchet. Più che altro con un prano a frizione. Che fa i 90 gradi sul gomito. 360 gradi. Al bacino. Ball joint sull'anca. 90 gradi avanti. 90 indietro. 90 in fuori. Ruota 360 su un prano a fungo. E ginocchio fa i 90 gradi. E l'articolazione del piede è ovviamente assente. Bene. E adesso... Avendo tutti e sette... I membri degli Airelbot... Passiamo a superior. Prima in modalità nuova. E poi passiamo a quella classica. E non ho proprio voglia di fare gli stacchi. Quindi... Facciamo in diretta. Cominciamo con il novellino. E facciamo spazio perché questo viene alto. Firefly. Bene o male sono tutti da ritrasformare in veicolo più o meno a metà strada. Non mi ricordo se l'avevo fatto vedere nella sua recensione. Alettoni indietro. Ali. Anche. Passiamo a silver bolt. Ho fatto la prova. Volendo silver bolt potrebbe anche fare finta di essere un headmaster. Perché questi pannelli qua si possono chiudere anche lasciando tutto dentro. Quindi... Dandoci un suo pigro senza testa. Poi io metto sempre le armi qua per dare maggiore spessore alle gambe che sono molto sottili ma se non sbaglio erano così anche quelle del G1 e poi gli skydive qui abbiamo visto tutti si abbiamo visto le loro rispettive recensioni tutte le trasformazioni in arto quindi per ora vado veloce e quattro ecco qua power light ecco qua e adesso passiamo ad El Raid e la vediamo con calma la trasformazione in braccio che è la sua configurazione ufficiale nel nuovo Superion ruotiamo la testa e pieghiamo il giunto in fuori le ali le richiudiamo del tutto hanno proprio uno scattino e le portiamo in alto le braccia hanno qui un piccolo perno e qui un piccolo slot quindi le portiamo indietro le pieghiamo in 90 gradi e questo slot qui sul polso se si vede va ad agganciarsi allo slot sotto i missili quindi questa è la configurazione del braccio le gambe ovviamente le uniamo poi prendiamo la sua mano ed ecco qua Superion in tutta la sua bellezza ultima cosa che faccio io prendo un fucile in Superion quello di Skydive ce lo metto qua sopra in pugno e così per non perderlo questo qui lo metto qua dietro bello nascosto ed ecco qua Superion in tutta la sua magnificenza quasi vediamo se riesco a farlo entrare in frame ecco qua Deluxe anzi Deluxe sta in piedi e più o meno Voyager truccato e già che ci siamo qui abbiamo un leader ottimo bene bene visto che l'abbiamo completo vediamo le articolazioni di Superion fa 360 gradi sulla spalla 90 gradi in fuori ruota 360 gradi sotto la spalla dopo l'articolazione del bacino anche se porre glide è abbastanza pesante la fa un po' cedere e tiramolo via 360 gradi al polso quattro dita collegate assieme pollice indipendente superno vediamo anche qua niente al bacino 90 135 gradi in avanti alla gamba 92 indietro ruota senza questa 360 gradi sulla sì sotto l'anca ginocchio fa 90 gradi facendo vedere il bel faccione di Firefly 360 gradi anche la caviglia bene e in puro stile Scramble City adesso passiamo alla configurazione classica e quindi smontiamo tutto e mandiamo via lui allora allora è red e adesso no tocca smontare tutto via e via allora secondo la Wikipedia Transformers e il red è la gamba sinistra quindi questo diventa un piede chiudiamo le dita ripiamo il tallone ruotiamo la testa dritta e dai eh carlo c'è dove sto modello ruotiamo in alto il perno richiudiamo le gambe e mettiamo il piede così diamo una piatta le istruzioni le braccia le rimettiamo al loro posto come in modalità veicolare quindi qui abbiamo la gamba sinistra e la gamba destra skydive che abbiamo già visto ok ok silverbolt torna a fare la torace ovviamente poi abbiamo Firefly che è il braccio destro come avevamo visto per quick slinger abbiamo questi due dentelli questo dentello qua e lo usiamo per tenerci il braccio che per anche la configurazione del polso combacia con queste alette qua come sempre rotiamo la testa in modo che non si veda palesemente allora ben detto braccio destro da quest'altro ecco qui e poi quick slinger o slingshot che è il braccio sinistro direi non abbiamo molte altre scelte e in questo modo bene o male intanto bene o male abbiamo superior versione classica e abbiamo gli stessi componenti per questa è il fucile di iraid di iraid di quick slinger questo è quello di Firefly e le mani sono uguali questo è il fucile di skydive questo è quello di iraid anche se è bianco inoltre le mani sono identiche e i piedi pure quindi volendo questa versione di superior è la più omogenea oltre ad avere due aerei identici e poi dipende dai gusti personali devo dire che questa configurazione mi piace quella più classica e credo che per il prossimo futuro la terrò così però anche quella nuova con il ragazzone qua non mi dispiace per niente e vediamo un po' e no pesa troppo anche per lui questo punto questo lo mettiamo così questo lo mettiamo qua dietro ecco a me va a genio alfa bravo a supire un no e questi due fucili identici mi fanno anche più simmetria qui eccoci qua e qui abbiamo superior in modalità G1 con il novellino ad avere supporto va bene ma stiamo parlando un po' trappi superior torniamo a parlare della gamba di Air Raid il modello mi piace un sacco sia l'aereo che il robot la trasformazione è davvero bella e i colori sono azzeccatissimi per quello che mi riguarda e sì è un acquisto obbligato oltre al fatto che sennò a me che non vi prendiate quick slinger vi rimane un supire un monco sempre a me se non concesso che abbiate comprato lui però in ogni caso è un modello ottimo hanno scolpito tutto a parte la trasformazione che è un po' simile in tutti tra Air Raid e Skydive hanno riciclato soltanto padellone fucile polpaccio 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 anzi no tibia se vogliamo dirla tutta e questo pezzettino qui che va dalla spalla al gomito il resto è tutto nuovo ecco qua bene quindi sei un decisamente un ottimo modello capisco perché a Viper Frizz piaccia tanto ed effettivamente adesso che ce l'ho tutto se devo fare una somma questi credo che questi due sono quelli che mi piacciono di più come il robot e sono uguali lui arriva secondo ma parlo in generale terzo no quarto arriva lui perché il robot è davvero bello soprattutto la sua faccina la sua modalità arto è abbastanza buona il veicolo secondo me è eccezionale nasconde praticamente tutto e quinto silverbolt non ci posso fare niente modalità robotica ops è buono modalità torso è eccezionale ma la modalità veicolare con tutto quel catafalco sotto l'aereo nascosto è abbastanza male lo fa soffrire va bene comunque e raid decisamente un modello ottimo superior un combiner davvero eccezionale per quello che mi riguarda va bene che ho pochissima esperienza di combiner e bene o male ho safeguard di animated e bruticos di fall of cybertron e mi fermo lì questo è il mio terzo il quarto è manazor che vedremo nelle prossime recensioni e poi da lì andremo avanti bene sto pensando che cos'altro potrei dire ma non mi viene in mente proprio nulla vabbè visto che l'avevo accennato come dicevo la modalità headmaster di superior è vero qua cioè perché non riesco ad agganciarlo oggi non lo so l'altro giorno non faceva tutti questi problemi volendo c'è lo spazio per infilarci dentro qualcosa e dall'ina testa a parte ok direi che abbiamo detto tutto ricomponiamolo ed ecco qua bene direi che non ho altro da dire sul gruppo degli aerial bot secondo me sono un buon acquisto tutti quanti tutti a 7 Firefly Quickslinger Silverbolt Skydive Air Raid Power Glide e Alfa Bravo per me meritano tutti di essere acquistati anche se questo sarà difficile trovarlo perché è un'esclusiva asiatica e ho visto su Big Bad Toy Store e su Robot Kingdom li hanno già esauriti oltre al fatto che BBTS ne permetteva l'acquisto di uno solo a capa bene penso che sia proprio tutto quindi direi che possiamo anche chiuderla qui e ci vediamo alla prossima video recensione ciao ciao